Enrico Gianzante, primario del servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. C'è un nuovo caso di meningite che sta facendo un po' discutere e che preoccupa. Qual è lo stato di salute di questa giovane ragazza? Allora, dai dati che abbiamo, dalle notizie che abbiamo, la situazione della ragazza è stabile. I parametri comunque stanno migliorando. Sappiamo che quello della coagulazione è migliorato. Si sta proseguendo chiaramente con quella che è la terapia antibiotica. Chiaramente notizie più precise dovranno essere fornite dai sanitari che andranno in cura, in particolare quelli della rianimazione e delle malattie infettive. Voi qui nel servizio di epidemiologia e di sanità pubblica siete intervenuti subito perché lo scopo di questo luogo è proprio quello di fare prevenzione nei confronti della popolazione. Esatto, siamo intervenuti dieci minuti dopo che ci è pervenuta la segnalazione. Immediatamente ci siamo adoperati per riperire tutti quelli che sono stati i contatti stretti della paziente. Con il contatto stretto si intende le persone che hanno avuto un contatto duraturo, quindi familiari, compagni di scuola, docenti, persone che hanno fatto attività sportiva con lei, senza dimenticare anche i colleghi del pronto soccorso, del 118, della rianimazione, dell'attacca. Noi lo facciamo ogni volta che capita un evento del genere, chiaramente. E ogni volta che c'è un evento del genere è comprensibile notare che si diffonda un po' di psicosi. Allora, innanzitutto dico di mantenere la calma, non c'è un problema né di epidemia né di contagio. Posso raccomandare di effettuare le vaccinazioni, ma nei tempi dovuti. Per cui soprattutto i giovani, che frequentano quelli che sono locali, viaggiano spesso all'estero, è bene che provvedano a vaccinarsi. In questo caso il batterio dà a combattere quello di cui affetta la ragazza, la studentessa del liceo classico Cotugno, è il meningococco. Che tipo di batterio è? Allora, il meningococco è un germe che si trova ubiquitariamente nel territorio, può essere anche nel naso farince delle persone, però ha una scarsa diffusività. È un batterio che non dà origine a quelle che sono epidemie. Avete cominciato in qualche modo a visitare e a ricevere le persone che sono entrate a contatto con la ragazza? Fin dal primo giorno, appena ricevuta la modifica, posso dire che già mezz'ora dopo avevamo contattato le persone e avevamo quasi tutte le persone che erano venute a contatto stretto. Di quante persone parliamo? Guardi, noi abbiamo sottoposto a chemioprofilassi antibiotica, trattandosi di una ragazza, quindi che frequenta, diciamo, tra le 50 e le 60 persone. Non posso dire quanti altri, abbiamo fatto gli altri colleghi. Chiaramente, trattandosi di una giovane, frequentato, più persone, quindi già di per sé la scuola ne porta una trentina-quarantina.